Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanistetta hanno presentato alla stampa il resoconto dell'attività svolta nel 2022 e i prossimi obiettivi da realizzare. Dalla manutenzione degli immobili alla modernizzazione e digitalizzazione dell'ente già avviata, pensando anche alla realizzazione di uno sportello informatizzato per agevolare i contatti con l'utenza. E ancora dalla formazione per i dipendenti, che proseguirà anche in futuro ai possibili nuovi bandi per il potenziamento del personale, dall'efficientamento energetico alle somme destinate al verde e ai finanziamenti in arrivo. Nell'anno 2022 noi come Consiglio di Amministrazione abbiamo ingentrato la nostra attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il 2023-2025. A differenza dei due anni che ci hanno preceduto siamo riusciti ad avere il parere positivo da parte del collegio sindacale e quindi possiamo programmare delle spese con più sicurezza e più serenità rispetto agli anni passati. Dobbiamo dire che per quanto riguarda il PNR Sicilia sono stati stanziati dalla regione siciliana 233 milioni di euro e l'ente ha avuto la capacità di avere approvati dei progetti per un importo totale di 88 milioni di euro. Due di questi progetti già da subito sono stati banditi, quindi ci saranno già i progetti esecutivi e le gare di appalto. Si tratta di due progetti, uno su Gela per un ammontare di circa 4 milioni di euro e un altro su Caltanissetta per circa 5 milioni di euro. I primi interventi infatti in città riguarderanno i civici 3 e 5 di via Puccini, ma in un secondo momento i lavori interesseranno anche gli altri civici. Intanto in tutta la provincia sono stati recuperati 25 alloggi e altri 25 sarebbero già stati assegnati ma in fase di sistemazione. Attenzione anche al tema delle morsità. Rispetto a tanti altri ACP noi abbiamo un recupero per quanto riguarda i crediti che spettano all'ente di circa il 70%. Abbiamo anche predisposto delle regolarizzazioni, quindi per evitare che gli immobili venissero occupati dagli abusivi e quindi che causassero anche danno all'ente, il quale poi per ripararli deve affrontare ingenti spese. Si è provveduto a circa 150 regolarizzazioni, che non sono pochi, con dei piani di rientro. Merito di questo Consiglio di amministrazione è anche il fatto di aver dilazionato per 120 mesi e quindi aver dato la possibilità ai nostri utenti di poter pagare rate di un importo minore e quindi di evitare che non si adempissero a questi piani di rientro. Per quanto riguarda il centro storico, dopo gli alloggi di via Mazzini e via Blandino che nei prossimi mesi verranno completati, si pensa ad una continuità del progetto di riqualificazione del quartiere Provvidenza. Noi abbiamo in programma di estendere questa riqualificazione ad altri immobili. Lei pensi che nel quartiere Stazzone e Provvidenza abbiamo anche costruito nove nuovi immobili e quindi abbiamo che verranno ultimati, spero, nel mese di marzo e si costruiranno altri immobili. Infatti questi importi finanziati riguarderanno delle costruzioni di immobili o la manutenzione straordinaria e fondi che potranno essere sfruttati fino a tutto il 2026.